Si torna subito qua, non più di 10 minuti, mi raccomando perché c'è un secondo tempo altrettanto bello e corposo con tanti artisti ancora mi dicevo, Teglolin, Loveca, La Varona Stramba, Marco Manera, un duo che balla, tantissimi altri musicisti signori e signori, vi lascio, stanno pronti? Sono belli, facciamo un applauso intanto, sono giovani, giovani e belli, di quei da lei ne erano meno loro, ma a gusto Bisogna anche lui, aveva prestato la batteria al gruppo, all'orchestra, lo ce l'ha detto, lo sentiamo tutto Siamo pronti? Applausi per il Grover plus Bender! Siamo pronti? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.